Botta e risposta in regione sulla questione sanità che attanaglia l'Abruzzo ormai da settimane. Ieri la conferenza stampa del PD in cui l'ex assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci chiedeva chiarezza sul progetto sanitario e denunciava il crollo delle prestazioni del reparto di cardiochirurgia a Chieti. Oggi ecco pronta la risposta di Nicoletta Verì, l'attuale assessore regionale alla sanità. La Verì ha dichiarato di aver già illustrato al Ministero della Salute che le specificità territoriali, demografiche e sociali della nostra regione non consentono un'applicazione rigida del decreto sul regolamento ospedaliero, ma che in ogni caso la Giunta regionale, assicura la Verì, sta portando avanti il lavoro sull'ipotesi d'idea di secondo livello Chieti-Pescara, ma anche su quella d'idea di secondo livello Teramo-L'Aquila. Tuttavia bisogna ricordare che i requisiti per attivare queste strutture di alta specializzazione sono stabiliti dal Ministero, che definisce gli standard dell'assistenza ospedaliera e non dalla regione. Inoltre l'assessore ha riferito che il project financing, tanto voluto dal PD, è al momento sospeso poiché non è stata individuata la copertura economico-finanziaria. Riguardo invece le nuove assunzioni in cardiochirurgia, la Verì ha confermato che è stato indetto un concorso pubblico, le cui prove si terranno nei prossimi due mesi. A difesa della Verì è corso anche l'assessore regionale al turismo e le attività produttive Mauro Febbo, che ha accusato l'ex assessore Paolucci di essere stato proprio lui a depotenziare l'ospedale di Chieti. Adesso ci chiedono di fare in sei mesi, attacca Febbo, ciò che loro non hanno fatto in cinque anni.